o era tanto che non mi saltava fuori la sigla stavo smistando e sistemando c'è un casino qua sopra oggi c'ho anche i miei incensi vaniglia del somino lavanda non vedo l'ora di andarmeli ad accendere li accenderei tutti io stavo mettendo a posto e mi sono ricordata che era l'orario del video oggi è tutto il giorno che ci penso successe che i miei capelli hanno la pettinatura la adolf oggi non c'è verso di farli tornare dritti vogliono stare voglio riesumare mai termine fu più azzeccato all'argomento un vecchio pensiero che feci quando scopri per la prima volta nei vari libri di storia nei vari studi perché l'occultismo in particolare e lo spiritismo sono hanno basi esclusivamente quasi storiche e quindi una persona che studia che si immerge nello studio dell'occultismo e dello spiritismo deve obbligatoriamente per prima cosa studiare e comprendere la storia in mezzo a tante tantissime nozioni storiche esistenti più o meno corrette più o meno descritte tralasciando battaglie e guerre che quelle le descrivono poi solamente i vincitori ma alcuni aspetti della storia mi hanno sempre portato a domande specifiche che riguardano appunto il mondo dell'occulto e il mondo in sé dell'oltre dell'animicità dell'entaticismo e via dicendo voglio parlare poi alla fine vi spiego dove sta il mio punto di incomprensione ecco è una delle poche pochissime situazioni nelle quali forse il mio modo di ragionarci sopra può sembrare lievemente complottista ma c'è un motivo specifico tanto mi spiego di cosa voglio parlare l'avete visto nel titolo e voglio parlare dei putridurium i putridurium che venivano anche chiamati scolatoi della morte o scolatoi dei morti erano e sono oggi per fortuna in disuso ma sono comunque visitabili erano delle piccole stanze completamente senza finestre senza reazione solo ed esclusivamente con una porta di entrata e basta nel quale in muratura tutti in fila sulle pareti si trovavano delle sedie molto molto simili a quelle che vediamo in ospedale e che vengono chiamate le comode la differenza sta nel fatto che la comoda è una sedia che ha il vasino da notte incorporato sotto per le persone che su sedie a rotelle o perché appena operati o perché appunto necessitanti di sedie a rotelle non hanno la possibilità di andare al bagno con le loro gambe pertanto queste comode vengono così chiamate hanno questo coperchietto con il buco centrale l'avrete visto tutti in ospedale e servono ai non deambulanti quindi a quelli che non riescono a camminare ricoverati in ospedale per fare la pipì e la cacca direttamente in sedia poi sotto c'è un cassetto che viene svuotato lavato e via dicendo nei putridurium le sedie non erano rotelle erano dei piccoli troni in muratura con l'appoggio lo schienale il poggio a braccia come una poltrona e il buco centrale appunto come le comode per fare il rapporto e farvi capire ma non erano gabinetti nei putridurium dal 1560 al 1563 iniziarono per regola ecclesiastica quindi per regola della chiesa sotto ordine del vaticano e del papa in carica in quegli anni venivano appoggiati i cadaveri delle monache o dei frati o dei preti e via dicendo di tutto l'ordine ecclesiastico che veniva a mancare in una determinata abazia in un determinato convento e via dicendo in Italia se ne contavano circa una quarantina 40-42 di queste stanze sotto ai conventi eccetera ma non è detto che ci siano solo quelle perché in moltissimi luoghi ancora di proprietà del vaticano non ci si può accedere e quindi non si sa con precisione quanti siano in realtà quanti siano stati e quanti siano a tutt'oggi perché le stanze fisiche sono rimaste da Palermo a Napoli da Roma ad Ancona da Treviso a Genova e da Milano a Torino erano disseminati ovunque ovunque ci fossero chiese importanti abazie conventi di monaci o conventi di suore sotto nel seminterrato si trovavano questi putridurium la suora o il frate o il prete che fosse che veniva a mancare veniva portato su una di queste sedie stando ben attenti che la gonna fosse da dietro solamente alzata in modo che mi è saltato il video da solo non si sa bene perché meno male che me ne sono accorta dicevo in questi putridurium veniva portato il prete la suora il monaco che era venuto a mancare veniva sistemato seduto su queste sedie di pietra stando ben attenti che la gonna da dietro fosse ben rialzata e che le sue parti intime cioè il fondo schiena e davanti fossero perfettamente riflessi mi è saltato di nuovo non so cosa gli sta succedendo a sto telefono non capisco è saltato un'altra volta il video riflessi dicevo i loro organi intimi direttamente riflessi nel buco di scolo appunto nello scolatoio questo perché perché ogni defunto quando a un certo punto rilascia rilascia lo sbotto di sangue il crollo degli organi e via dicendo tende proprio questo sangue questi fluidi corporei a uscire dalle parti intime in questi buchi doveva scolare tutto il fluido del corpo morto che usciva questi cadaveri venivano lasciati in queste stanze seduti su queste appunto sedie su questi scolatoi fino alla completa putrefazione della carne le loro carni dovevano essere consumate dovevano marcire direttamente sopra queste sedie di pietra finché le ossa non si fossero ritrovate completamente pulite era uso specialmente nei conventi e nelle avazie che i confratelli o le consorelle andassero tutti i giorni all'interno di questi putridurium a pregare per le anime di quei defunti che si trovavano seduti nelle apposite seggioline di marmo nei vari stadi di decomposizione quindi quelle stanzette senza finestre erano immensamente sature di batteri estremamente pericolosi tanto è vero che l'ammalarsi di varie patologie di varie infezioni respiratorie cardiocircolatorie e quant'altro da parte proprio dei confratelli e delle consorelle che giornalmente andavano a pregare per le anime dei defunti era l'ordine del giorno oltre al discorso meramente batterico di quei poveri cristi che si ammalavano per andare a pregare davanti a dei corpi in putrefazione la lavorazione finale di questi corpi una volta che si erano completamente decomposti e che le carni erano completamente staccate dalle ossa dovevano essere recuperate le ossa lavate accuratamente una per una che non rimanesse neanche un'idea della carne che ci poteva essere stata dopodichè venivano inseriti in cassettine non usavano le bare e venivano sepolti o negli ossari o anche in terra ma in cassettine piccole dove le ossa venivano ammucchiate a volte i teschi venivano anche trattenuti fuori e messi su alcune mensole col nome a targhetta in ricordo della consorella o del confratello le croci inoltre perché monaci preti suore frati e quant'altri seguaci del clero non potevano avere una lapide e non potevano assolutamente avere nemmeno una foto sulla croce il loro nome inoltre doveva essere scritto solo per quello che era stato il nome da votivo esempio io mi chiamo Sveva Molinaru ma nel momento in cui mi faccio suora non succederà mai mi facessi suora manco per ipotesi il mio nome diventerebbe suor verdina sto sparando una cagata di quelle bestiali sulla mia croce e non lapide senza nessuna foto senza nessun epitaffio a ricordarmi per quanto ero bella brava buona simpatica e meno male che non mi potete tirare la verdura agli ortaggi perché sono in video e ci sarebbe stato scritto solo ed esclusivamente il mio nome da suora quindi suor verdina e l'anno della mia morte in alcuni conventi in alcuni in alcune abazie era concesso di poter mettere anche l'anno della nascita ma più di lì nada de nada de nada rien e sta cosa mi ha sempre fatto pensare c'è da dire che questa usanza è durata tantissimo quasi 500 anni perché gli scolatoi all'interno delle caste ecclesiastiche vennero utilizzati fino quasi per tutta la prima metà del 1900 vennero chiusi ma nei conventi non si sa bene manco di preciso ma quelli delle chiese e delle abazie che erano erano aperti diciamo anche al pubblico come come zone vennero vietati con l'avvento delle prime leggi ufficiali sull'igiene e sulla protezione civile e va già bene ma è stata un'usanza perpetrata nel tempo per oltre 500 anni allora io ragionavo ragionavo sul discorso sul mero discorso dei funerali e delle sepolture le sepolture nascono proprio anche dai dettami della bibbia stessa polvere eri e polvere ritornerai terra eri e terra ritornerai ritorna alla terra ciò che è nato terra e tante altre frasette fatte no solite anche a dirsi specialmente nei funerali cristiani per l'appunto quindi la chiesa normalmente imponeva una sepoltura imponeva perché non le imponeva ma le consigliava molto animatamente delle messe in suffragio le messe in suffragio sono il ricordo no che tu fai recitare a un prete del tuo caro estinto l'ha messa in suffragio a un anno dalla morte l'ha messa in suffragio a tre anni dalla morte con cadenze ritmiche e via dicendo anche nei gruppetti un pochettino pirla dove ci sono tanti fissati con la religione che quando qualcuno scrive magari ho sognato mia nonna che era triste che era arrabbiata c'è sempre 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 il bigotto di turno fagli fa delle messe che gli frega il morto della messa non si sa ma quello che ti consiglia di fagli fa delle messe lo troverai sempre in italia ma comunque suppongo che anche d'altre parti faranno fare delle orazioni o altre robe del genere a livello religioso a prescindere tornando invece al discorso serio e che si rapporta molto a ciò che io conosco a livello animico e non anche a livello storico i cimiteri cristiani nostri classici il cimitero dove andate tutti a trovare nonna zia bisnonna e cugino di secondo grado sono soliti da sempre avere nome cognome data di nascita data di morte epitafio dove tutta la famiglia ti amava quanto gli manchi e da quando sono state inventate le fotografie ma anche prima perché facevano già i ritratti del defunto la foto o il ritratto che fosse del defunto stesso questo perché perché il cimitero doveva anche darti modo di pensare e proprio per quello che serve tra l'altro pensare e ricordare meglio il caro estinto il fatto che i cimiteri ecclesiastici fossero chiusi al pubblico quindi se io c'avevo una sorella suora che mi mora in convento non posso andare a trovare mia sorella non so quale sia la sua croce perché non c'è una foto non c'è un nome non c'è una pippa a meno che non si chiamasse suor genuflessa d'aquino che allora magari dà il nome ma se si chiamava suor maria ce ne saranno 500 le suor maria l'anno di nascita non già sta valla capicchie quindi non posso andarla a trovare non la posso ricordare il suo corpo la sua carne non esiste più con la scusa e l'attenuante che quella putrefazione cadaverica era dovuta alla purificazione più le ossa si staccavano dalla carne e più secondo la spiegazione ufficiale del clero l'anima si purificava per andare in cielo ora quelle anime in quella vita terrena perlomeno da quella vita terrena perlomeno di energie per come le conosco io quindi pensieri ricordi candele accese e quant'altro non ne hanno ricevuto per niente o comunque in minima scala rispetto al defunto con la cappella familiare con una foto così dove tutti i parenti potevano andare a 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 e io dico e qui mi salta il complottismo ho sempre pensato che lo facessero di proposito proprio perché il clero sa tante cose che ci tiene che non vengano dette perché altrimenti la sua struttura a raffaspiccioli crollerebbe vuoi vedere che lo facevano di proposito proprio perché quelle anime non avessero nessuna possibilità di tornare in qualche modo a colloquiare con qualcuno e a dirgli guarda ciccio che ho fatto una vita le merda e me sono sbagliata e per paura perché sai un conto e che arrivo io su youtube nel 2021 e vi dico io non credo a questo non credo a quello però credo a quell'altro e credo a quell'altro ancora io sono atea non credo in nessun dio però credo nell'esistenza dei vampiri dei licantropi e delle sirene c'è chi mi dirà la penso come te c'è chi mi dirà questa è una pazza furiosa internatela c'è chi si metterà a ridere pensando che invento favoleggio o che sono leggermente triquadripolare e chi si andrà ad informare approfondendo le cose che io racconto in maniera magari più precisa e più mirata attraverso studi di storia e via dicendo il mondo è bello perché è vario anche se ultimamente lo trovo abbastanza variato più che altro ma questa usanza nasceva nel 1500 ma anche oggi se oggi non fossi io Sveva Molinaro perito informatico che non fa il perito informatico nella vita e che mi conoscono sia no mille persone che ho qui che poi di 1400 utenti che ho registrati i miei video li guardano 150 200 che comunque è già una buona media però in generale sono sempre la stronza di Molinaro Sveva che dice la sua opinione c'è anche tizio Caglio Sembronio che dicono che esiste solo Cristo che esiste solo Allah che esiste solo Buddha che esistono gli alieni che i Nefilim torneranno sulla terra e quant'altro quindi posso essere io la pazza può essere quello dei Nefilim può essere il cristiano può essere il musulmano può essere il buddista possiamo essere tutti pazzi arriva lo scienziato che dice guarda levatevi tutti i piedi non esiste niente siete tutti fuori come dei cammelli ci sta l'opinione di tutti a prescindere nel bene e nel male l'opinione quando è fatta in maniera educata e gentile ci sta sempre ma se oggi in pieno piena piazza San Pietro il Papa sta facendo la messa domenicale a un certo punto col microfono in mano gli appare una suora fantasma davanti a tutti che gli piglia il microfono e gli dice allora ora ve la racconto io ci hanno preso per il culo diciamo che l'effetto sarebbe un attimino differente che non sentire me su youtube ma obiettivamente e già di questo temono a tutt'oggi figuriamoci quanto lo temevano nel 1500 non parlo dei comuni i comuni erano a suoi fatti proprio dal fatto che anzi la chiesa ti diceva che se vedevi un fantasma voleva dire che quella persona era stata malvagia ed era stata punita per questo che era sulla terra non doveva averci niente a che fare scappa e già lì il motivo c'è stava ma se disgraziatamente fossero apparse 3-4 suore defunte magari conosciute in quel paese che a un certo punto dicevano cicci buttate giù la chiesa fate un parco giochi che è più utile la chiesa ne avrebbe risentito del brutto e io mi sono sempre fatta quest'idea complottista che tutto questo armeggiare per far sì che il corpo si disintegrasse il più possibile dalle carni di modo che non rimanesse l'aspetto di quel cadavere neanche per scherzo e in più veniva pure lavate le ossa poi la cassettina doveva sta così perché manco la forma del corpo gli lasciavano intera poi niente nomi niente foto niente ritratti va bene nel 1500 le foto non c'erano però nome e cognome anche di quando non era suora oppure che ne so almeno la data di nascita tanto da capicchiera niente 15.000 suor maria 792 suor georgia e 427 suor maria così se cercavi tu solo o portavi 482 fiori uno per uno o lasciavi perdere ma tanto non ci facevano manco entrare dentro i cimiteri chiusi dei conventi quindi non ci potevi manco andare a trovarla tutto questo macchinare per far sparire in tutti i modi il ricordo di quelle persone lascia a me un senso un'idea di macchinazione per far sì che se per sbaglio riuscivano ad avere un po' d'energia per tornare avrebbero screditato tutto il castello di carte che in quegli anni specialmente si stava costruendo sulla paura e sul timore di un dio vendicatore e giudice comunque se vi interessano i putridarium i putridurium putridarium insomma gli scolatoi dei morti basta scriverlo su google e trovate poi tutte le informazioni tecniche storiche che vi interessa sapere io mi ero molto improntata invece proprio sul ragionamento del loro utilizzo che in rapporto con ciò che invece dicevano ai morti al di fuori del clero non aveva collimazione cioè non c'era collimazione perché il morto in casa c'è devi fare il funerale c'è devi fare le veglie c'è devi fare la lapide bella devi pagargli le messe mentre invece i morti là bisogna che scompaiano bisogna che nessuno sappia niente c'è qual quadra che non cosa detto questo vi saluto ora devo incollare tre video insieme perché si spegneva da solo secondo me qualcuno non voleva che parlasse dei putridarium ma fa lo stesso perché io ne volevo parlare e io sono prepotente qua sotto tutti i link dei vari social dove mi trovate e un po' più sotto i link di tre o quattro delle mille mille librerie invece che tengono in venite i miei libri ad oggi sempre cinque ciao